Io sono sempre un po' cauta nel valutare gli exit poll, io so però che da quello che mi hanno detto sul territorio effettivamente si sono dichiarati finalmente gli elettori del centro-destra, cioè dicono che cosa hanno votato perché c'è voglia di dare il segno del cambiamento in Liguria. Io direi che è confortante anche il fatto di aver visto tanti elettori del centro-destra tornare a votare anche quelli che dicevano non vado a votare e questo l'abbiamo sperimentato nella giornata di oggi.